Amore, acqua e sanità. Tre argomenti di cui si fa un grande bla bla bla, un grande chiacchiericcio a bassa voce e poi sempre più forte perché chi ne parla vuole cambiare le cose, vuole denunciare un malessere. E poi c'è chi ha raccolto questo bla 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 come Andrea Gregori e ne ha fatto un libro forte, intenso, sui problemi della sanità e della società visti da dentro, vissuti da vicino in mezzo a quel chiacchiericcio che diventa denuncia sociale e letteratura. Bla 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 il chiacchiericcio di fondo che non riconosce una realtà che sarebbe visibile se potesse essere resa tale. La storia che racconta Andrea Gregori è quella di Giorgio, infermiere sindacalista in un ospedale di provincia che accompagna il lettore in un viaggio intimo nel cuore e nella mente di un uomo alle prese con i propri demoni. Un romanzo che riflette la realtà di molti professionisti sanitari portando alla luce la complessità della loro realtà lavorativa sociale e politica in rapporto ai grandi temi come appunto la sanità dove le zone buie sono ancora tante. Per quello che riguarda acqua e salute bisogna fare molta attenzione a chi sono gli attori principali ma soprattutto che notizie fanno passare. Stiamo andando verso una deriva in cui pagheremo di più l'acqua, pagheremo di più la salute, sembra proprio di sì. Questo libro è il temerario tentativo di uno scrittore, se vogliamo, di far emergere una realtà che è occulta e che mira a sostanzialmente a rendere difficile l'accesso alle cure e pagare di più l'accesso all'acqua. Un futuro dove il pubblico soprattutto nella sanità lascia lo spazio al privato, uno scenario che in pochi raccontano ma che in tanti sono costretti ad affrontare. La politica cosa deve fare? La politica deve avere meno interessi personali e più interessi pubblici, la res pubblica.